benvenuti ancora in diretta con lo spazio del nostro approfondimento beh il titolo di questo spazio proprio cadenza d'inganno vedete il titolo tra l'altro di questo libro a cura della dell'autore alfredo anichiarico che abbiamo qui ai nostri studi buongiorno e benvenuto allora entriamo subito in argomento così va la pena promuovere questo lavoro che ricordiamo sarà poi presentato ufficialmente domani sera alle 18 e 30 nella sede dell'associazione camini a grottaglie questa sera invece la presentazione nella città di lecce allora cadenza d'inganno che cosa vuole esprimere questo titolo la cadenza d'inganno la cadenza d'inganno è una forma prima di tutto musicale ma poi adottata anche nella letteratura ed è una forma molto particolare è un è un serve per creare della suspense del momento di attesa attendendo qualcosa ma che magari ci si aspetta però per un qualche motivo musicalmente magari l'accordo cambia diventa qualcosa che non ci sia che non ci si aspettava e così nella forma nella forma letteraria è la stessa cosa è stata adottata anche nella forma letteraria ecco e a chi che cosa racconta questo che è un romanzo si è un romanzo questo è il mio terzo romanzo poi magari parleremo anche degli altri due ma intanto focalizziamo l'attenzione su questo sì beh diciamo è un è una storia ambientata in un in una città del galles nel 1865 la città è il newport e tutto ruota intorno a a un sogno che ha il il padrone di una ferriera sogno è quello di creare un ponte trasportatore che fino allora non era mai stato costruito e un ponte trasportatore è un ponte un po' particolare non è un ponte normale di solito viene costruito veniva e viene costruito lungo quei fiumi che sono navigabili per le per le per determinati tipi di 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 imbarcazioni alte magari e quindi è un ponte che ha questi due pilastri altissimi con una traversa centrale da cui scende scendono due cavi d'acciaio a cui sono collegate collegata una piattaforma che serve per spostare i mezzi le persone da una sponda all'altra del fiume ovviamente detto oggi sembra sembra una cosa normale anche abbastanza semplice da da immaginare però pensate alla fine del nella fine dell'ottocento avere un'idea del genere poi ovviamente ovviamente questo sogno incomincia poi a diventare realtà e poi avanti fino a certo fino a un certo punto chi sono i destinatari di questo libro beh i destinatari di questo libro sono quelli magari che hanno 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 il hanno voglia di estranearsi un po dalla realtà che ci circonda in questo momento che un po un po particolare un po dura e ha bisogno magari di di sentirsi un po' più di sognare un po di di avere di avere delle anche delle delle illusioni delle delle aspirazioni poi anche l'ho anche ambientato in quegli anni perché siamo siamo in piena in quegli anni eravamo in piena seconda rivoluzione industriale e quindi un'idea l'idea di progresso era molto molto spinta molto molto sentita molto sentita e quindi magari questa voglia di crescere questa voglia di 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 vedere oltre magari può far può far veramente sognare anche chi legge chi legge questo libro ecco a proposito di questo naturalmente si ritorna poi sul tema della lettura gli italiani si dice nei sondaggi no statisticamente parlando leggono poco soprattutto i giovani eppure verrebbe da dire è un rimedio così piacevole per come dice lei allontanarsi dalla realtà o per alleviare in qualche modo le fatiche della routine quotidiana eppure i dati parlano negativo in questo in questi termini io credo io credo che non sia proprio non sia proprio così così nera così nera perché in effetti chiaramente noi parliamo sui grandi numeri diciamo che una certa una certa una certa fascia d'età si deve ancora magari a difficoltà di avvicinarsi alla lettura anche perché è distratta da l'altro è distratta da l'altro l'informazione la cultura viene fatta dal fine fatta dalla rete viene fatta dal dalla televisione da strumenti assolutamente innovativi rispetto a quello che può essere un libro un libro dei fogli di carta che magari affascinano ancora magari persone come me dell'età della mia età però magari il quello più giovane viene affascinato magari da delle tecnologie un po' più diverse che sortiscono degli effetti immediati rispetto alla lettura di un libro perché un libro lo devi lo devi conoscere te ne devi innamorare è un percorso quasi un rapporto a due e chiaramente gli effetti e risultati si vedono con dopo la lettura completa no quando quando si conclude di leggere un libro diversamente abbiamo invece dei messaggi molto più rapidi molto più comodi molto più veloci e quindi soprattutto chi è più giovane va alla ricerca viene viene fortemente allettato maggiormente si sono assolutamente d'accordo beh anche lo stesso fatto di andare di scegliere un libro scendere scendere per andarlo a comprare e però tutto ha un suo fascino questo è via io lo dico io sono assolutamente affascinato quello è uno delle cose più grande quello è uno delle cose più grande cominciare a conoscerlo no in maniera così apparente per poi calarsi nel contenuto ha un fascino a mio avviso inestimabile molto sì c'è anche un momento tattile che è importante nella scelta del libro molto importante per me per esempio quando scelgo un libro io oltre a scrivere queste cose sono anche un discreto lettore coi tre quattro libri al mese li leggo però a me piace andarli a scegliere mi piace toccarli annusarli è un po è un po è un po da è un po da 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 persone di altri tempi però mi piace però siamo tanti siamo tanti ecco cerchiamo anche di di lasciare aperta questa finestra di speranza soprattutto il riferimento a chi è più giovane di noi ci sono però altri due libri che lei ha scritto io partirei dal primo visita di stato sì anzitutto prima di entrare nei contenuti di capire che cosa poi riporta l'attenzione del lettore questo libro le chiedo molto spontaneamente come come è arrivata l'idea di scrivere un libro allora io vengo da un'esperienza allora io sono ho scritto per il corriere del giorno sono stato il corrispondente